Buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di venerdì 27 dicembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. Corriere delle Alpi che in prima pagina come apertura porta un articolo di carattere economico. Gli artigiani meno tasse per le aziende montane. Scarzanella, che è la presidente della Confartigianato di Belluno, vogliamo una ZES, una zona economica speciale, ma i nostri parlamentari non ci aiutano. E come fotonotizia della prima pagina c'è una foto di Roberto Lorenzette. Muore cadendo per 200 metri, pieve di cadore, piange, Bauer. Spiega il giornale, lo chiamavano Bauer. Roberto Lorenzette era conosciuto per soprannome fin da quando era bambino, perché il suo carattere è un po' rude. Il 48enne di pieve di cadore è morto la vigilia di Natale dopo una caduta di 200 metri da un sentiero, lungo le ripide pale che si trovano sopra nebbiù di cadore. E dato così uno sguardo alla prima pagina del Corriere delle Alpi, passiamo alla parte del giornale che viene dedicata alla provincia di Belluno. E la prima pagina di questa sezione è riservata proprio alla città Capoluogo, pronti a partire i lavori nella ex chiesa dei Gesuiti. Si è chiusa la gara d'appalto, intervento aggiudicato all'impresa bellunese Deon, l'assessore Frison, ragioniamo anche sugli spazi della ex caserma Tasso. L'edificio, l'ex chiesa dei Gesuiti, diventerà una piazza coperta per ospitare il mercato e aree gioco per i bambini. E ancora dal comune di Belluno si cerca la ditta per sistemare il piazzale della stazione, via allo studio antisismico per le tribune dello stadio. E poi c'è l'approfondimento sulla presa di posizione degli artigiani che chiedono fiscalità agevolata per far crescere la montagna. Scarzanella stigmatizza lo scarso impegno dei parlamentari. Serve la ZES ma nessuno appoggia la nostra richiesta. Ex ECA, accordo ATER comune, Natale al caldo per gli inquilini. Alloggi al freddo, per due mesi non erano state pagate bollette per 50.000 euro. Rento, la presidente dell'ATER, anticipiamo la somma, poi andremo a chiedere il rimborso alle famiglie. Andiamo avanti ancora sulle pagine del Corriere delle Alpi. Quattro posti letto e sedute operatorie a neurochirurgia. Grazie alla nuova convenzione siglata con l'US di Treviso, l'azienda Dromiti farà ripartire un servizio ora azzoppato. Ortopedia 1-2019 da record all'ospedale di Belluno, superati i 1700 interventi. Crisi del lavoro e fuga dai paesi nella riflessione del vescovo Renato Marangoni durante le messe di Natale. Ritirate otto patenti tra Belluno e Feltre da un'operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri. Promozione turistica, il piano di rilancio, parte da un corso al via nel comune di Borgo Valbelluna. A inizio gennaio l'iniziativa di formazione sul territorio. La giunta intende potenziare l'ufficio informazioni. Sedico preso il regatore seriale di 13 macchine però è un'ottantenne del posto. Un cittadino dono a 20.000 euro al comune per i restauri a Libano. Anche in questo caso siamo in comune di Sedico. Limana, raccolti oltre 1.000 euro dal coro arcobaleno in aiuto a Insieme si può. Superiamo un inserto che dedica a vari appuntamenti del fine settimana che il giornale dedica e continuiamo sul Corriere delle Alpi. Alpago, atterraggio sbagliato, finisce col parapendio nel lago di Santa Croce. Disavventura per un 45enne bellunese partito dal Nevegal. L'uomo è stato salvato dal compagno di volo e dai pompieri. De Battista, nuovo presidente del consorzio Impianti a Fune, Arabba Marmolada. Vertice rinnovato dopo i cambiamenti societari con la nascita del gruppo Funivie. In cantiere c'è un progetto di comunicazione assieme ai consorzi turistici. Violenza sulle donne, una panchina rossa per invitare a riflettere. La notizia viene da Taibon. Feltre ha sportato un tumore di 20 cm e tessuto ricostruito con cotenna di suino. Lo straordinario intervento su un paziente albanese eseguito in due fasi dai chirurghi Montin e dal Soler. Il mondo del palio piange la morte di Alfonso Sampieri. Aveva 70 anni. E siamo ancora nelle pagine di Feltre e del Feltrino. In questo caso una notizia che arriva da Querovas. Imu, Tasi e Irpef invariate ma preoccupa il calo di abitanti. Per il sesto anno consecutivo le imposte restano ai minimi di legge. Lo spopolamento spinge Mondin a rilanciare l'ipotesi di fusione con Alano di Piave. Da Campo a Schievenin, in comune di Alano di Piave, strada chiusa da 11 mesi. Lavori previsti nel 2020. Santa Giustina. Sala polifunzionale. Lavori al via nel 2022. Fiorot in ritardo come l'ecocentro. Vigne, abbiamo dato la precedenza, a scuola e palestra. Tra le opere pubbliche in calendario, gli ossari del cimitero. Lamont, manutenzione carente di edifici e reti paramassi. L'allarme di malacarne. Andiamo ancora avanti. Ed eccoci a Cortina. Impianti e piste. Adesso si punta al collegamento Tofana-Lagazzuoi. Le aperture della nuova freccia del cielo e della pista Lacedelli hanno inaugurato una stagione di grande innovazione. E sempre da Cortina. Consiglio lunedì con 15 punti. La minoranza dichiara guerra. Darin e compagni contro il bilancio restano invadiate le tariffe dei rifiuti. Sempre da Cortina. Borse per 31.000 euro a 100 studenti meritevoli e residenti. Auronzo. Punto di primo intervento. Zaia oggi tira le somme sulla sanità ai privati. Video e sorviglianza. Il comune investe nelle telecamere. Anche questa notizia viene dal comune di Auronzo. E poi c'è l'approfondimento di quella che è stata la fotonotizia in prima pagina. cade dal sentiero. Bauer muore a 48 anni. Roberto Lorenzette è scivolato precipitando per 200 metri in una zona che conosceva bene. La madre lo aspettava a pranzo. Spirito combattivo e lealtà era un esempio per tutti noi. Questo un ricordo dell'uomo di Roberto Lorenzette che è deceduto. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno che apre l'edizione odierna con una notizia sulla gara del gas. Gara contestata, scrive il giornale. Italgas non si ferma. La società migliore offerente per l'affidamento della rete attende la assegnazione. Abbiamo fatto tutti i passi necessari. Valore sottostimato, sottolinea. Allora i sindaci dovranno spiegare che l'eventuale aumento andrebbe a ricadere sui cittadini. La fotonotizia è dedicata ai serrai di Sottoguda in comune di Rocca Pieture, in particolare alla chiesetta dei serrai, l'edificio di culto che aveva resistito a Vaia ma che è stato devastato da un albero. Tredici mesi fa la chiesetta dei serrai di Sottoguda era rimasta miracolosamente indenne alla tempesta Vaia, un albero piumpato sul tetto provocando danni ingenti alla copertura e ora si temono infiltrazioni. Le pagine 2 e 3 del Gazzettino di Belluno sono dedicate a temi di carattere sanitario. La prima da Feltre tolto il tumore inoperabile. Albanese, sessantenne, costretto a lasciare il suo paese in cerca di una speranza di vita, l'ha trovata all'ospedale di Feltre, tolta una massa di 20 cm e ricostruita la voragine grazie a una protesi creata utilizzando la cotenna del maiale. E poi vediamo dall'ospedale di Belluno, glaucoma, chirurgia mini-invasiva, 20 casi trattati, tutti con successo. Un anno di radiologia con oltre 90.000 esami, in questo caso si torna all'ospedale di Feltre. E vediamo Belluno, farmaci antiblastici preparati in casa. Andiamo avanti sul giornale. Natale alcolico, ritirate 8 patenti, altrettante multe per la velocità. I carabinieri impegnati sulle strade ed è per la sicurezza del territorio nelle festività. Rubo alcolice al supermercato, trentenne fermato nel Padovano. Doppia visita alla cattedrale per gli studenti della scuola Mediaricci di Belluno. Casa ater al freddo a Belluno. Trovata la soluzione, il debito sarà coperto. L'azienda territoriale per l'edilizia pubblica e il comune si acolleranno i 55.000 euro non pagati al fornitore di gas. Un ritocco alla tassa sui rifiuti nel bilancio di previsione di Belluno. L'adeguamento del 3-4% tra le novità del documento al vaglio oggi del Consiglio Comunale. Ed eccoci a Feltre. Piano contro le frane, strade riaperte. Tre gli interventi conclusi da parte dell'amministrazione. Pren, Vignui e via Romanella sono state messe in sicurezza. I versanti erano diventati instabili dopo la tempesta vaia. Dopo la sistemazione sarà comunque necessaria l'asfaltatura. E sempre da Feltre si è spento Alfonso Sampieri, uno, una delle anime del palio. Il presidente Tamburrino è una grande perdita. In tanti anni ha fatto crescere la manifestazione. Unione del Basso Feltrino. Bogana rimane alla guida. Seduta straordinaria per sette ville, unanimità sul sindaco di Alano di Piave. Siamo al punto che i piccoli comuni hanno poco da offrire se non si fondono. Questa è una delle riflessioni proposte. Autosfreggiate al Peron. Era opera di un nonnino, smascherato dai carabinieri, il rigatore che danneggiava le vetture. Ha 80 anni. E, ancora dal comune di Sedico, regole per la cittadinanza onoraria, consiglio comunale diviso a metà. Si è opposto de Paris chiedendo un'annimità per il via libera ai nomi proposti. L'idea della minoranza è stata bocciata. Pontile per pescatori disabili e poi atte. I lavori proseguono. Affidato un nuovo intervento, ma siamo ancora al primo straccio. La notizia viene dal comune di Alpago. Con il perapendio nel lago, pilota congelato ma salvo. L'allarme a Santa Croce, a Natale, un bellunese in ipotermia. Manca la neve, annullata la gara, di sci alpinismo in Alpago. Serrai senza pace, chiesa devastata. E qui viene proposto l'articolo che approfondisce la fotonotizia di cui abbiamo già detto in prima pagina. Sistema antivalanghe, è già necessaria la ricarica in comune di Roccapietore. Pronto soccosto dimezzato, sindaci pronti a mobilitarsi per Auronzo. Servizio esterno. L'appaltatore chiede tagli al personale e alle ore di servizio. Misure che peggioreranno l'offerta. Subito un incontro con la regione. Auronzo lotta ai malviventi. In arrivo altre dieci telecamere. E poi da Pieve di Cadore, scivola lungo il sentiero, muore quarantottenne e viene raccontata la vicenda che ha coinvolto Roberto Lorenzette. Caralte, tra cinque traciaspe e serate, celebra i dieci anni Unesco. In questo caso siamo in comune di Perarolo di Cadore. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.